I miei bambini frequentano la San Filippo da tre anni. Abbiamo iniziato il percorso alle scuole elementari, poi con mio figlio Riccardo, il più piccolo, abbiamo iniziato il percorso alla materna. Ho due bambini, la più grande oggi è in prima media e il più piccolo adesso è in terza elementare. Mi è piaciuto molto il progetto di bilinguismo che mi hanno proposto quando li ho conosciuti. Un nostro desiderio è quello del bilinguismo, quindi far sì che i nostri figli terminino il percorso conoscendo bene l'italiano e bene l'inglese. Prevede un numero cospicuo di ore d'inglese che ritengo siano fondamentali in un percorso formativo. È una scuola inclusiva, i bimbi hanno un approccio multiculturale. La cosa che mi è piaciuta di più è la varietà di lavori che fanno insieme questi bambini. Mi è piaciuto il metodo di insegnamento, il fatto di unire l'arte, la musica. La cosa più bella è vedere loro che tutte le mattine comunque vengono con voglia a scuola perché sanno che c'è sempre qualcosa di nuovo e sempre qualcosa da fare insieme agli altri ragazzi. Grazie a tutti.